E rispetto Francesco. Certo, però è forte quello che vuoi. No, è forte, forte. Io non ci ho mai giocato insieme, però... Io sì, io contro insieme. Contro le botte che siete mutati? Sì, eh? Sì, sì. Lo chiamavo tappetaro, lo chiamavo. Ogni carciopetaro si gioca tappetaro. Ma tu ti ricordi uno che ti ha proprio menato tanto, tanto, tanto? Che mi ha menato tanto, tanto, Montero. Montero mi ha dato un cazzo sotto a Devere, sul 4-0. Mamma mia. Lì, ma non so come ha fatto arrivare la gamba in curva. Tu parli. Poi c'era... Io mi ricordo Roma. Non so che anno era. C'era Samuel con voi. Pronti. L'altro lo scudetto. No, sì, pronti. E poi gliel'ho detto, perché lui sei mesi fa, con l'Argentina, sono venuti a giocare amichevole qua a Los Angeles. Sono andato a salutare Paolo, c'era lui, Scalloni, tutto lo staff in hotel, e allora l'ho salutato, no? Sono andato davanti e ho detto, devo mettere i parastiniti ancora e mi saluti per bene. Lui era... No, si siamo fatti due risate, ma, ascolta, partiamo noi col calcio d'inizio, eh. Tre due game e tocca la palla. Io la do dietro, vado avanti. Sai che corri in avanti, piano piano, e guardi dietro dove è la palla. Minchia, mi è arrivata, non so con che cosa mi ha legnato. Non so con che cosa. Ma andava così, boom! No, lui era imbarazzante. Poi sai... Mi sono girato e ho detto, uh... A bravura sua, qual era? Che temenava al momento giusto. Sì. Non si faceva vedere. Vabbè, adesso sarebbe diverso. Vabbè, certo. Adesso cavare... Fenomeno, eh. Fenomeno. Come Paolo in difesa, eh, Montero. Sono quei giocatori che... Giocano a occhi chiusi. Sì. Guarda Pjanic pure, oh. Pjanic, sì, ho visto. Oh, Mire. Fa il furbo, eh. Che giocatori che ci stanno. Qualcuno è rimasto, però, eh. Poghi, ma sono rimasti. Sì, però è cambiato tanto... Cioè, tu prendi i difensori. I difensori oggi non posso più menare come una volta. No, no. Cioè, oggi con tre per due ti danno il cacchino. Quindi, cioè... Con noi, che lo spettacolo in più, più gol, eccetera. Si è messo in pratica anche con le regole del gioco, capito? Oggi con le telecamere e con quello che è, non puoi più far niente. Una volta... Ma c'è anche il chiamo, c'è pure il VAR, perciò... Eh sì, cioè, una volta... Mi ricordo Montero con Di Biagio, che lo ricordo, via Milano. Mamma mia. Con le immagini che dopo ci ha dato la squalificata. Che era un normale, un normale scontro da gioco. Una normale... Una casualità. Una casualità. È come Ronaldo a Torino o Juve Inter. Sì, voglio dire, cioè, sfondamento di Ronaldo, mi sembra una roba... Ma c'è, è giusto non fischiare, no? Beh, guarda un po'. E io stavo venendo a girare con l'arbitro. Però che bello. E che bello. Però... Quante chiacchiere. Quando ti aspettavo uno, sai cosa mi ha scritto? Il gol di Turone era valido. Come io mi ricordassi del gol di Turone. Cioè, io neanche... Il gol di Turone, parliamo quasi di 40 anni fa, eh? Su, per giù. Sì, ha detto 40 anni fa, sì. Eh, noi abbiamo smesso 25 anni fa. Ho capito, ma 40 anni fa eravamo ancora con il ciuccio in bocca, fra... Eh, noi sì. Eh, ma lui, mi sa che ti ha scritto, era un po' più grande, mi sa. Sì, forse sì. Comunque, gli ho chiesto quanto tempo fa il gol di Turone, ma ha scritto 40 anni fa. Eh, beh, su, per giù, dai. Enzo, ma... Vabbè, dai, allora facciamo così. Sì, quando ti impari e gioco a Padel... Vengo a trovarti. Beh, una bella partita. Senti, se dovessi venire... Eh... A Las Vegas... Tre ore di mezzo. Faccio un santo a Los Angeles, no? Così mi fai assaggiare a sto ristorante che è aperto. Mi fai due bruschette o... No, no, abbiamo una carbonara che non hai idea. Cos'è che a me non piace la carbonara? Cos'è, appunto. Giuro. Se faccio qualcos'altro. Vabbè, però assaggio. Se mi dici che buona... Ieri... Sì. Vabbè, facciamo qualcosa. Che ti piace? Qual è il tuo piatto? Io ho i gnocchi o le lasagne. La lasagna ce l'abbiamo. I gnocchi... I famo. I famo. Sì, abbiamo la signora che viene a fare la pasta fresca ogni mattina. Ovviamente... E allora, vabbè. Adesso è un po' un casino, però... Vabbè, adesso no, dai, se... Con calma. Però una settimanella lei mi venga a fare, dai. Tra Los Angeles e Las Vegas vengo. Ti venga a trovare là, dai. Quando vuoi, quando vuoi. Va bene. Senti, ma i pupi giocano? Ma gioca tu figlio a pallone pure? Sì, sì, gioca... Sì, sì. Tutti e tre. È bravo questo, eh? Sì, sì. No, gli piace. Poi qua, per le ragazze, sono tutti attrezzati. Ci sono un sacco di squadre femminili anche per bambine. Lo sport per le ragazze, non dico il numero uno, ma quasi. Perché hanno vinto tre mondiali negli ultimi quattro. Quindi, figurati. Sta bellissimo. E donne vanno più forti degli uomini, quasi. Vanno veramente forti. Anche lei si è appassionata. Ma sai, è un periodo della vita dove fanno qualsiasi cosa. Dalla danza, al calcio, al basket. Il basket è un'altra cosa che... Il mio grande si divide tra metà, fra calcio e basket. Aspetta, salutiamo un po' di cosa sta questo. Chi è? Seganotec. Lo saluto con tanto affetto, Seganotec. Non so chi è, ma lo saluto. No, perché ha fatto tutti i sedi, tutti i merda, tutte queste cose qua. Vabbè, neanche di qua. Ma no, però... Almeno lo saluto, è contento. Mentre il tuo gioca anche lui a calcio, no? Cristian, sì. Sta cosa che ho letto, che va a giocare la Lazio... Ma che... Allora, adesso non l'ha sentito fuori alla diretta. Allora, mi hanno chiesto, col fatto che faccio un nuovo lavoro, lo porteresti Cristian a Lazio, facendo un nuovo lavoro, è tutto aperto, no? Perché poi alla fine a Lazio, Juve, Milan, Inter, sono tutte uguali le squadre. Poi, se... Ma anch'io lo penso, non c'era da dirlo. Cioè, non è che ho portato a Lazio, Cristian. Non è che sono scemo. Però... Però se a lui gli piace tutto quanto, perché dovrei fare un'altra cosa? E allora hanno cominciato a prendere... E strapolano un pezzo di quello che dici, quello che gli pare. Ma ti pare che io lo porto a Lazio? Ma mica sono scemo, no? Cioè, con tutto rispetto, ma... Diciamo che il percorso di vita loro non sarà il nostro. No. Però abbia ragione. Però sono più fortale, diciamo. Che non è facile scegliere... Sì? Sì, di sicuro. Sono più fortunati perché... Li indirizziamo nella strada giusta. Perché noi poi siamo obiettivi, eh? Siamo sinceri. Cioè, io se Cristian non è capace a giocare, già io l'ho detto, Cristian, io aspetto un altro di due, tre anni massimo. Poi se non sei capace, va a fare un altro lavoro, bello è papà. Ah, sì. Sì, sì, devo... Infatti la cosa che anch'io ci sto più dietro è proprio fargli capire queste cose qua. Perché noi... Cioè, avevi la passione e con il talento e quindi puoi unire due cose. Ma se hai solo una delle due, non vai da nessuna parte. Anche se hai tanto talento, ma non ci stai dietro, non ti alleni, non ci dai dentro... Dov'è? Non è che giraccia attorno. Comunque. Bisogna che capiscono questa. Che, insomma, fa il genitore, probabilmente... Lo chiamano mestiere, in realtà non è un mestiere, ma è la cosa più difficile da fare. Perché comunque trovati a scegliere per loro o altro. Diciamo che insegnamento io lo diamo, in tutto e per tutto. Grazie a tutti.